Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sarebbero detti addio dopo un anno e mezzo di relazione. La notizia, diffusa dal settimanale Chi Magazine, confermerebbe la fine della storia d'amore tra il cantante bolognese e la giornalista del Tg1. Nonostante la loro grande riservatezza, i due avevano sempre trasmesso una forte sintonia nelle rare occasioni in cui erano stati fotografati insieme. Lasciando intravedere un legame profondo e autentico. Tuttavia, le difficoltà legate ai rispettivi impegni e alla mancanza di tempo condiviso sembrano aver avuto la meglio. Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbero stati episodi eclatanti o tradimenti a causare la rottura, ma una naturale divergenza di percorsi che li ha portati a separarsi. Né Cesare né Giorgia hanno commentato la vicenda. E si prevede che manterranno la stessa discrezione che ha caratterizzato il loro rapporto. Evitando dichiarazioni pubbliche o gesti plateali sui social.